L'obiettivo è individuato nitido all'orizzonte il sentiero da percorrere, tracciato da affrontare con gambe, testa e soprattutto cuore. L'Italia procede verso le qualificazioni ai campionati europei di Francia 2018, due partite nel giro di pochi giorni, tra il 27 settembre a Lubin in casa della Polonia e il 1 ottobre a Brescia contro il Montenegro. Livello di difficoltà alto come alta è però la voglia dell'Italia targata Riccardo Trilini di misurarsi con due grandi della palla mano europea. Lavoro duro e ritmi alti stanno caratterizzando gli allenamenti della squadra azzurra in raduno in questi giorni a Roma. Nel gruppo anche le atlete della IOMI Salerno, reduci dalla trasferta di Coppa e HF di Giorno. L'Italia volerà ad Ankara in Turchia dove affronterà in amichevole le turche e la macedonia. Due test preziosi questi ma anche gli ultimi prima delle due gare ufficiali contro Polonia e Montenegro a fine mese. Ci stiamo preparando, già con il raduno di fine agosto abbiamo iniziato a preparare le due partite contro Polonia e Montenegro. Prima ci aspettano la Turchia e la Macedonia che sono entrambe formazioni che conosciamo bene perché abbiamo già affrontato in altre qualificazioni negli altri anni. Siamo cariche, siamo tutte pronte e daremo il massimo sicuramente per Montenegro e Polonia perché abbiamo ancora un po' l'amaro dopo la sfida della Serbia persa in casa. Quindi vogliamo sicuramente rifarci anche perché secondo me siamo una formazione giovane che può dare tanto e daremo sicuramente il massimo per portarci a casa almeno la partita in casa contro il Montenegro e poi volendo anche la Polonia.